E ciao a tutti farmers, spero tutto bene Allora Prima cosa in questo video qui volevo dirvi Se mi sentite meglio Perché grazie a mia cugina Che mi ha regalato il microfono Adesso mi dovresti sentire Molto meglio, decisamente meglio Perché ho provato a fare dei video E sentirli E si sentivano decisamente meglio Poi adesso addirittura ho anche il cavalletto Con la bolla, così vedo se è bello dritto Pian pianino a mia cugina Perché lei è più tecnologica di me Perché io non è che mi intienda troppo di tecnologia Però pian pianino mi sta facendo imparare Anche a farmi diventare un po' più tecnologico Però niente In questo video qui volevo dirvi Un paio di cosucce Allora, la prima cosa che volevo dirvi È che Come progetto Patate, melone, zucche Angurie, pomodori, cetrioli È andato male Ci sono Io questo sbaglio qua Non lo dico tanto per me Perché per me Le spese sono state Abbastanza minime Si gira intorno ai 100 euro Che purtroppo Non sono pochi Però non sono neanche tantissimo E purtroppo Se sei contadino Devi sperimentare Se non sperimenti Non puoi sapere mai Se funzionerebbe Sì o no Quindi Spendete 20 euro Però non vi cresce l'erba Io il problema che avevo Era l'erba Cioè avevi i pomodori Che erano immersi nell'erba E quindi Erano tutti mangiati Delle cimici Essendo che Erano mangiati Delle cimici Non Non si poteva fare qui niente Perché erano tutti Forati Delle cimici Ormai Non La pianta Diventava secca Si aspettava ancora un po' Perché loro Sendo che sulchiano la linfa La pianta Dopodiché Diventerà secca Quindi Una cosa che volevo dirvi Vi prego Dovete L'unica cosa che volevo dirvi State attenti All'erba L'erba È una delle cose Che per chi è che fa l'ortolano Scusate se sto sudando Ma anche oggi Fa troppo caldo Ma per chi è che fa l'ortolano È il peggior nemico L'erba Perché l'erba Non aiuta Non aiuta l'erba E Però purtroppo Aspetta che metto più indietro Forse così Forse così mi dovreste vedere meglio Purtroppo l'erba non aiuta Anzi Mette molto disagio Io una cosa che volevo dirvi Una cosa Dei teli Dovete prendere dei teli Se volete fare come Io l'anno prossimo Mi dovrò attrezzare Anzi Vi dico già una cosa Che però in realtà Vi faccio un piccolo spoiler L'anno prossimo Verso novembre No Verso natale Dopo natale Arriva un nuovo mezzo Però questo qua Non è usato Perché Questo non l'ho preso usato Lo prenderò nuovo Ma nuovo nuovo E vi dico soltanto Che questo qua Lo userò Soltanto io Per fare tutte le mie cose Dell'orto Della serra E dei terreni E questo è soltanto Per coltivare Quindi per coltivare I terreni Seminare Trattare il terreno Sminuzzarlo Prepararlo Fare lo sfalcio Dell'erba Tante cose Però non vi dico ancora niente Non vi dico se è un trattore Se è un Non lo so Se è una moto Zappa Non vi dico niente Vi dico soltanto Che è una cosa Che sarà molto utile Alla mini azienda Perché comunque ragazzi Ormai Con tutti gli animali Che c'ho Con tutte le cose Che sto facendo Non si può dire Che siamo una grande azienda Però una mini azienda Si può dire Che stiamo diventando Pian pianino Però Pian piano D'altronde Non tutti si può diventare Subito grandi Bisogna metterci Un po' più di esperienza Poco Perché non ci vuole tanto Avere un po' di esperienza Bisogna far passare gli anni Passando gli anni Diventerò sempre più bravo Riuscirò a Magari Riuscire a fare Anche più video Più belli Pian pianino Vedete che anche Con mia cugina Riesco a fare video Con il microfono Se dovreste sentirmi Anche meglio Poi adesso C'ho anche la bolla Addirittura Sul cavalletto Così vedo Se anche dritto Il cellulare Perché prima Tante volte Lo mettevo storto Non ammetto Non ero abbastanza Attrezzato Quindi pian pianino Mi sto anch'io Attrezzando Sia in agricoltura E sia Anche proprio Come tecnologia Quindi ragazzi Io vi volevo dire State attenti Con l'erba Perché le patate Purtroppo Non sono nate Perché l'erba Cosa è che c'è C'è lo strato dell'erba La patata è arrivata Qua c'è lo strato dell'erba Se è fermata Perché ha fatto Substrato Facendo substrato Cos'è lo substrato È uno strato Molto duro Oltre a passare E la patata Non ce l'ha fatta Quindi l'anno prossimo Avremo bisogno Anche delle attrezzature Per seminare le patate Coltivarle Tirarle su E tutte queste cose qua Avrò bisogno Anche qualcuno di voi Che mi venga A dare una mano Infatti Farò anche qualche votazione Adesso da un attimo Imparare anch'io A farle Perché non so Come si facciano Quindi Imparare anch'io A farle E quindi Dovrò fare anche Delle votazioni Per trovare uno Perché è Roberto Che lui Mi seguo anche lui E Ha anche Non è che ha una certa età Però Tanti lavori Non può farli Perché ormai Comunque è in pensione Queste cose qua Lui mi dà una mano Più caldo sui trattori Quelle cose lì Però lui Ha l'esperienza Io invece Ci avrò bisogno Anche uno Proprio che Anche se non c'ha Tanta esperienza Però che sia giovane Che riesca A bella forza Di darmi una mano Forse ho trovato uno Però non dico il nome Perché Essendo che Magari lui sai Mi segue Dentro nel mio canale Youtube Però non dico il nome E niente Perché preferisco Per la privacy Quindi Se Tutto Lui gli piace Va bene Se riesce a venire Quasi tutte Se non tutte le settimane Quasi tutte le settimane Anche un giorno Una settimana Basta Lo presenterò E diventerà Il mio Operario Personale E volevo dirvi Soprattutto un'altra cosa Che Principalmente Se c'hai dei terreni Devi avere L'attrezzatura Acqua La cosa più importante Che devi avere L'acqua Se non c'hai acqua Puoi dire Già addio Devi avere L'attrezzatura L'acqua Quindi di conseguenza Una pompa E i teli Per l'erba I teli paciamanti Quelli degli ortolani I classici E avere Come dire Un terreno Che sai Sei sicuro Al 100% Che la gente O comunque Le persone Che non hanno rispetto Per gli altri Non te le vada Non che Più che altro Non te le vada A spaccarti le piantine Non te le vada A rubare Gli ortaggi E' una cosa che Io vi volevo dire Perché tante gente Purtroppo Li succede E' una cosa Molto brutta Perché Giustamente Sono ortaggi Li coltivo io Li ho sempre coltivati io E poi gli altri Li vengono a mangiare Sapete Non è molto carino Però se invece Per dire Uno me lo chiede Posso andare a rubare Anzi Gli li regalo Addirittura Vedo che Poi Se si diventa clienti Diventano amici Io tipo Con le galline Quando vengono i clienti Queste cose qua Che diventiamo amici Tante volte Addirittura Per dire Prendono una coppia Maschio E una femmina Gli regalo su un'altra femmina Io Perché Bisogna fare un po' così Perché Quando si diventa amici Giusto Regalare anche noi tanto Tante volte Mi è già capitata una signora Che mi ha chiesto Una concincina gigante Maschio blu Una femmina nera Io ho regalato su una femmina Splash Che comunque Dato che a lei Non c'avevo bisogno di fare concorsi Sendo che lo splash Comunque non è valutabile Nella federazione E non ce l'aveva bisogno E quindi Vi l'ho regalata su Tanto per dire Quindi Ragazzi Io volevo dirvi una cosa Purtroppo Quest'anno Il progetto delle patate Non è andato bene Non è andato bene Tutto il progetto del terreno L'anno prossimo Io andrò anche a studiare Agraria Avrò anche un anno In più di esperienza Riuscirò a studiare Anche un po' di più E saprò un po' di cose E quindi Purtroppo ragazzi Quest'anno Il progetto delle patate Di tutto il resto Si ferma qua Questa è la conclusione Del progetto Perché È andato male Però C'è sempre un però L'anno prossimo Avrò non un terreno Avrò ben due terreni Dove pientare tutta la roba Di cui uno è Mi sembra Adesso non mi ricordo più Forse un ettaro Forse Sì No Sarà quasi Ma Facendo i conti Devo calcolare Allora Facendo i conti Per così Per così Comunque circa Su per giù Dovrebbe essere una pertica Circa È una pertica È molto Una pertica Cioè dovete pensare Che non è poco 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 In tutto Tra il terreno Che c'abbiamo di lì Il terreno Che c'abbiamo di là Saremo intondo Perché Una pertica È il terreno Quello che c'abbiamo di lì L'altro Quello là Perché c'è Uno nuovo Di terreno Che dovrò Andare a Metterlo a posto Che farò anche Di video dedicati Perché andrò A metterlo a posto Andrò a colcimarlo E perché ci sono Tutte delle sterpaglie E delle piante Che dovrò abbattere Tirare via Le loro radici E E tirare via E le rase Quindi Tutte le rase Quelle che ti bisivano Quelle cose lì E useremo sempre Il nuovo Mezzo Che arriva In azienda Però non vi dico Ancora niente Che mezzo sia E Quindi Purtroppo Dopo avremo Molta roba da fare Però sono contento Veramente contento Quindi ragazzi Una cosa che Questo video Non è uno video Di Per demoralizzarsi Per dire Non mi O per Prendere in giro Per dire Prendere in giro Me stesso È un video Per dire Che Non è che sei in agricoltura Quel progetto Lì va male Basta Finisce lì Tutto il canale Tutto il mio canale Finisce lì Finisce tutto No Si prende Da questo sbaglio Qui Se ne rifarà Tanti altri Però Da questo Io non lo farò Mi più di sbaglio Quindi Vedrete che Già l'anno prossimo Sarà tutto Diverso Da quest'anno Proprio perché Avrò Un anno Già di esperienza Di quello che ho fatto Che ho sbagliato E l'anno prossimo Quest'anno ho sbagliato L'anno prossimo Non sbaglierò più E magari Lo farò molto meglio Non è perché In agricoltura Sbagli Un progetto Sbagli Una cosa Finisce tutto lì No Anzi Si deve andare avanti Ancora di più Hai un motivo più Per andare avanti Quindi ragazzi Io voglio dirvi una cosa Che in agricoltura Non dovete subito Diventare tristi O dispiacervi Perché finisce così Il progetto Bisogna Alzare la testa E andare avanti Bisogna andare avanti E basta L'anno prossimo Se ne sarà un altro E sono arrivati Anche degli animali Vi dico soltanto Una coppia Di anatidi Questo posso già dirlo In fattoria Che lunedì Infatti Non uscirà il video In fattoria Ma uscirà il video Di questi anatidi Perché questi qua Sono gli anatidi Gli anatidi Più particolari Infatti Vi dirò il prezzo Lunedì Perché Li ho pagati Veramente tanto Però Purtroppo La femmina È in muta Quindi se la vedrete Un po' spellacchiata Perché è in muta La femmina Perché le anatri Adesso sono tutte in muta Anche Il maschio Invece Ha quasi finito La muta Però Sono gli unici Che ho trovato Di coppia L'ho pagato bene E sono le anetre No Le oche Più Difficili A trovare in tutto il mondo Io ho trovato soltanto Questo allevamento L'ho trovato a Varese Se no ce n'è uno In Toscana E ce n'è uno Mi sembra giù In Sicilia O a Napoli Mi sembra C'è un allevamento Lì Però Non ne ho trovato Tanto altri Vicino a me Ho trovato soltanto Questo allevamento Qua E Sono contento Perché Era il mio desiderio Fin da piccolo Di avere queste oche Qua Perché erano delle oche Bellissime Le ho sempre adorate E finalmente Ce le ho E uscirà il video Dedicato Che dire Farmer Spero che in questo video Mi avete sentito bene Poi comunque Mi sa che farò Anche un video dedicato A questo microfono qua Dato che Mi sta piacendo Perché è veramente comodo Perché ce l'ho qua sopra Io Perché poi io ce l'ho qua sopra E Io sono sempre Debitrice La mia cugina Perché se non c'era lei Non so se trovavo io Fuori un microfono così bello Perché io non mi intendo Di microfoni In realtà non mi intendo Proprio di tecnologia In generale Però Se non c'era lei Io non penso Che l'avrei trovato così bello E Quindi Mi piace comunque Farò un video Perché io ce l'ho qua sopra Quindi mi dovresti sentire Abbastanza bene E Niente Farmer Dai Ci becchiamo nel prossimo video E Mi raccomando Ascoltate i consigli Che vi ho detto Perché sono molto importanti Da ascoltare Perché Così non farete lo sbaglio Che ho fatto io E l'anno prossimo Faremo tutto più bello Questa è la cosa che vi posso dire Faremo tutto più bello Con mezzi nuovi E nuove attrezzature Nuove stavolta Non usate Questa volta ve lo dico E Che dire Farmer Ci becchiamo nel prossimo video Ciao a tutti